Mi chiamo Lorenzo Porciatti, ho partecipato al corso Scudo della Cedit in quanto ho voluto reinventarmi nel mondo del lavoro, in quanto è in continua evoluzione, specialmente nell'ambito informatico al giorno d'oggi. In questo corso abbiamo sviluppato molte capacità nell'ambito appunto della sicurezza e capire in particolare come svilupparsi in quest'ambito, come generare gestire una situazione di crisi, come mettere in sicurezza un'intera azienda o comunque un sistema, una rete, in quanto ci possono essere problemi non solo esterni per quanto possono essere attacchi hacker, ma anche parte dell'azienda stessa che possa essere in maniera attiva o non attiva. In questo corso devo dire che ho imparato molto, ho avuto molto piacere a scoprire alcuni aspetti che sinceramente erano completamente nuovi da parte mia, in quanto mi affaccio su un mondo che è completamente diverso dal mio background, ma che appunto ho ottenuto delle ottime infarinature per poter svilupparmi in futuro ancora di più in tale ambito. Per quanto riguarda gli insegnanti sono stato molto soddisfatto di questo corso anche perché sono stati molto attenti, hanno risposto a molte delle domande da noi fatte e sono stati anche attenti a dirci le possibili conseguenze di cattivi procedimenti, per quanto potrebbero essere molto dannosi. Infine voglio dire che comunque questo corso lo posso raccomandare anche a tutte le persone che vogliono anche soltanto affacciarsi nell'ambito dell'informatica in quanto bisogna sapere tutti i rischi che ci sono a lavorare con il sistema informatico prima di poterci mettere le mani secondo me, in quanto i problemi continuano sempre a aumentare con il tempo che va, però la gente tende ad essere sempre ignana di ciò che si rifroga intorno.